Un nuovo incontro per il mese di aprile, eccoci insieme per trattare il tema delle donne, delle donne in letteratura. Il novecento, un secolo, il secolo largo per le donne, un secolo ricco di autrici che hanno dovuto e che sono ancora escluse dalle letterature italiane. Risale al 23 dicembre del 2019 una comunicazione del MIUR che ha come oggetto lo studio di autori meridionali che erano in gran parte stati esclusi dalla letteratura, dallo studio letterario. Una battaglia condotta con tutte le sue armi dal professore Paolo Saggese e che è passata un po' in secondo ordine considerando tutto quello che è successo poi successivamente col covid che ancora crea in tutta la società ed anche nelle scuole incertezza, sconcerto e quindi fa passare in secondo piano alcuni argomenti. Già nel 2010 era successo qualcosa di nuovo con delle annotazioni ministeriali, si era data la possibilità alle scuole e ai docenti di introdurre degli autori nuovi andando oltre il canone tradizionale, quel canone ottocentesco che risaliva addirittura a Francesco De Santis, ministro della pubblica istruzione del regno appena nato, il quale aveva proposto lo studio di autori che rispondessero a quelle che erano le esigenze della società e della politica egemone, l'uomo, il patriota, il borghese, il liberale, le donne poco quasi ignorate, le donne venivano cantate, ricordate i vari passi, pensiamo sempre siamo in periodo dantesco, Paolo e Francesca, insomma le donne avevano in questa Italia che stava nascendo un preciso impegno, quello della cura. Pensiamo anche alle tante donne che hanno lottato per realizzare il sogno di un'Italia unita, ricordate come moglie, madri e dimenticate precissivamente. Ora era possibile parlare di donne, queste donne che già agli inizi del novecento avevano con i cambiamenti in atto in seguito alle guerre mondiali, l'industrializzazione dato segno di rivolta, insomma ha dato prova di sé soprattutto con Anna Maria Mozzoni che è una grande interpreta in Italia dei movimenti femminili. Ma che cosa accade in questa novecento? Mi piace citare un nome, le scrittrici ci sono, basti pensare a Sibilla Leramo, Sibilla Leramo di quale tutte penso abbiamo letto una donna, Sibilla Leramo che viene chiamata, invitata da Mussolina a un incontro con Mussolini dove lei a cui si reca chiedendo di essere inserita, non voglio sbagliare, nella Accademia d'Italia. Naturalmente è una richiesta assurda, una donna, una femmina nell'Accademia d'Italia, la risposta è negativa e quindi vedete la risposta è negativa però Sibilla Leramo viene aiutata dal regime, quando le si chiederà perché l'ha fatto le risponde in maniera molto sintetica per fame. Un altro caso sempre di questo rapporto tra donna, cultura e potere politico è quello di Grazia Deledda, Grazia Deledda che premio Nobel, prima italiana a cui ha segnato il premio Nobel, una candidatura caldeggiata da Mussolini. Mussolini che invece ha posto un veto rigidissimo ad un'altra grande scrittrice, Matilde Serau. Matilde Serau non ha avuto il Nobel per il suo, come dice, per il suo, per il rifiuto di Mussolini perché Matilde Serau era un antimilitarista. E veniamo a questa grande donna, grande scrittrice, che non si studia, che mi auguro diventi oggetto di studio e che io vorrei proporvi, sulla quale vorrei proporre almeno un'altra un'altra lezione. Oggi mi limiterò a raccontare solo qualche cosa, nata nell'ottocento, una ragazzina vivace, una mamma greca, un papà napoletano, una ragazzina che ama molto la cucina napoletana e che non ama neanche scrivere, finché nel 1878 comincia a scrivere, incontra la scrittura e inizia con un novellino. Da quel momento la sua vita sarà tutta basata sulla scrittura. Scrive di tutto e di tutti, con sicurezza e con audacia, anche se rimane sempre moglie, madre, impegnata nell'attività familiare, tant'è vero che lei diceva che le donne devono avere due punti di riferimento, l'ago e la penna. Quindi una rara figura di artista, conosciuta per il ventre di Napoli, nel quale parla di questa città, però quello che è poco conosciuto è proprio la Matilde Serrao, giornalista. Una figura particolare, questa sua passione per il giornalismo. È lei che dà vita al mattino e lei che, ora vedremo, partecipa ad altre avventure editoriali con un ruolo trainante, soprattutto nel supplemento del mattino. Testi che è difficile trovare ma che si possono trovare a Napoli in luoghi abbastanza riservati. Quindi in questa stagione lei iscrive su questo giornale e che cosa fa? Interessanti sono tutti questi suoi articoli che ci fanno capire lo spirito del tempo. In un sud nel quale il tasso di analfabetismo è elevatissimo, i giornali e il giornale per lei è un vero e proprio centro culturale di riferimento. Dal primo giorno, lei dice, non vuole essere altro che custode della memoria e narratrice, una affabulatrice. Quello che mi ricorda moltissimo questo paragone è il il monitore di Eleonora de Fonseca Primentel. È vero che è un giornale, una stampa spiccatamente regionale, ma non regionale perché Matilde, direttrice di settimanali e di quotidiani, si occupa di cultura, anche di ampio respiro, nascondendosi inizialmente con uno pseudonimo maschile di Gibus e quindi e trasmettendo sul giornale il fascino della cultura orale, quella cultura che è la cultura della Napoli che poi tutti noi conosciamo ed amiamo. E quindi nel supplemento dominicale, nel quale lei non vuole parlare di politica, si occupa di grosse recensioni letterarie, ma anche presenta romanzi di apprendice, i famosi fogliettoni appuntate che sono antesignani dell'esop opera. Tutto questo lo possiamo trovare nelle Meroteca Tucci di Napoli, almeno in parte, e quindi noi la possiamo vedere come la più grande interprete della cultura di quel tempo, anello di passaggio tra una cultura dal canone ottocentesco ad una cultura moderna, anche se è stata costretta a fare i conti con gli anni del fascismo. A questo punto io mi fermo e ci vedremo la prossima volta per continuare questo nostro incontro sul tema Matilde Serau e la letteratura femminile del Novecento.